Bene cari amici, ben ritrovati sempre sul mio canale YouTube. Appuntamento consueto, mensili, arriva puntuale, come ogni mese, il mio Ambo sotto controllo per il mese di giugno 2023. Nel mese di maggio avevo dato il capogioco 14, che è sortito sulla ruota di Bari. Quindi il capogioco di Ambo sotto controllo è da giocare tassativamente, è micidiale, è micidiale. Abbiamo sfiorato per un punto l'Ambo secco, è stato diciamo vinto l'Ambetto, 14-33. Quindi per un punto abbiamo sfiorato l'Ambo secco, perché avevamo 14-32. Peccato perché sarebbe stata un'altra grande vincita, l'Ambo sotto controllo. Però diciamo che abbiamo vinto l'Ambata 14 a Bari e l'Ambetto. Attenzione giugno 2023, perché in regalo per tutti abbiamo l'Ambata 43 sulle ruote di Bari Cagliari, anche terza e quinta posizione. Si parte da giovedì 1 giugno per tutto il mese di giugno. Mi raccomando non perdere la previsione completa, perché abbiamo due Ambi soltanto su due ruote fisse per tutto il mese di giugno 2023. Potete richiedermi la previsione in modalità vincita venuta, quindi pagamento soltanto se uscirà l'Ambo secco a ruota secca. Non la perdete perché è una previsione molto valida. Chi vuole può giocare anche l'Ambetto, perché spesso, come è successo a maggio, esce anche l'Ambetto. Del resto parliamo soltanto di due Ambi su due ruote. Quindi anche l'Ambetto è giocabilissimo, perché la giocata è veramente ristretta. Mi raccomando, contattatemi per la previsione o via mail o via whatsapp 348 75 47 715. Ambo sotto controllo giugno 2023. Ha il capogioco Ambata 43, Bari Cagliari, terza e quinta posizione. Due Ambi su due ruote, modalità vincita venuta. Contattatemi per avere questa previsione per il mese di giugno 2023. Per adesso saluto a tutti i mister sbancolotto.